Terremo in questa meravigliosa sede che è la Domus Comeliana di fronte al Duomo di Pisa il Perio Campus Avanzato che si divide in due grandi percorsi, il percorso dontoiatri e il percorso igienisti dentali. Nel percorso dontoiatri il nostro primo focus è cercare di capire quando fare chirurgia e come fare la chirurgia. Soprattutto grande attenzione sarà posta sugli allungamenti di corona clinica e la chirurgia rigenerativa che sono il grande delle due chirurgie che dobbiamo utilizzare nella pratica clinica quotidiana. Per lasciare poi l'ultimo giorno la chirurgia mucorringivale, la chirurgia plastica che ovviamente ha un interesse che va ben oltre i pazienti che sono affetti da parodontite. Per farlo abbiamo il nostro consueto approccio, il Case Based Interactive Learning, quindi basato sui casi clinici, ma in modo interattivo cercando di capire quelle che sono le abitudini e le prassi di ciascuno di noi e allo stesso tempo su diversi tipi di simulatori cercheremo di attuare le tecniche pratiche per poi poterle applicare nella nostra pratica clinica quotidiana.